Mi inorgoglisce ma soprattutto mi dà grande responsabilità, la responsabilità di chi è cosciente che si affronteranno quattro anni molto difficili con tante questioni irrisolte, con tanti problemi che come ho sottolineato durante l'Assemblea abbiamo e avremo sulle spalle, però ci accompagnerà una grande determinazione, una grande forza, un grande coraggio per affrontarli nella dovuta maniera. Sono particolarmente felice non soltanto per l'unanimità della votazione ma sono felice per come è avvenuta questa elezione, per come è avvenuta la raccolta delle designazioni che ha determinato tanto entusiasmo da parte di chi doveva designarmi. Le società hanno voluto designarmi con tanta convinzione, con tanta forza, proprio perché hanno voluto affidarmi ancora per quattro anni questo difficile compito e io lo accetto nella consapevolezza appunto della coscienza di sapere di dover affrontare tante questioni.